Buongiorno a tutte e tutti, io sono Rossella Miccio, presidente di Emergency e sono contentissima di aprire questo evento Una Vela per Emergency in Barcolana dove Emergency torna dopo 19 anni ed è da qui che vorrei un po' ripartire. 19 anni fa eravamo qui, c'era il nostro fondatore Gino Strada che ha l'idea di poter condividere con un mondo, quello della vela, dello sport, quelli che erano i valori fondamentali che sono alla base del lavoro di Emergency che quest'anno compie 30 anni e che sono dei valori estremamente concreti perché in questi 30 anni abbiamo curato gratis e mi permetto di dire orgogliosamente anche credo bene oltre 13 milioni di persone in giro per il mondo, vittime delle guerre che ancora oggi nel 90% dei casi sono civili e vittime ma anche delle conseguenze indirette delle guerre perché quello che la guerra fa è distruggere non solo le infrastrutture ma distruggere anche la possibilità per le persone normali come noi di accedere ai diritti fondamentali in primis quello alla salute che è molto legato all'essere vivi ed è per questo che da lì dalla risposta con la chirurgia di guerra alle vittime dei conflitti abbiamo ampliato negli anni il nostro lavoro. In questi ultimi 19 anni in realtà il mondo di oggi è molto diverso dal mondo del 2005. Oggi non so quanti di voi lo sanno ma ci sono attivi 56 conflitti censiti nel mondo. Noi sentiamo parlare forse un po' di quello più vicino a noi giustamente che ci preoccupa in Ucraina o quello in Medio Oriente ma ce ne sono altri 54 che vanno sotto traccia nel silenzio più assoluto. Non so quanti di voi hanno sentito parlare della guerra che da un anno e mezzo è ricominciata in Sudan io sono tornata proprio ieri dal Sudan, beh in un anno e mezzo 11 milioni di sfollati 11 milioni di persone come noi che dall'oggi al domani sono stati costretti ad abbandonare le loro case molti sono ancora in giro in un paese che è grande quanto due terzi dell'Europa altri sono andati a trovare rifugio, hanno cercato rifugio nei paesi limitrofi che non sono paesi come dire che hanno una solidità tale da potersi permettere di accogliere centinaia di migliaia o milioni di profughi ma lo stanno facendo penso al Chad, al Sud Sudan, all'Egitto. e noi per queste persone ci siamo, ci siamo sempre stati, in Sudan siamo dal 2003 in realtà e uno dei progetti di cui avevamo parlato proprio nella Barcolana del 2005 era l'idea di costruire questo grande centro di cardiochirurgia a Khartoum, la capitale del Sudan che potesse dare un messaggio estremamente concreto di uguaglianza nei diritti perché abbiamo deciso di portare in Africa il meglio della nostra scienza medica per dimostrare agli abitanti del Sudan e di tutto il continente perché abbiamo curato pazienti che arrivano da 30 paesi in quel contesto lo stesso diritto che pensiamo sia dovuto a noi, lo stesso livello di cure che vogliamo per noi ebbene oggi quell'ospedale, nonostante Khartoum sia diventata la linea del fronte si combatte casa per casa, strada per strada nella capitale del Sudan da un anno e mezzo è l'unica struttura rispettata da tutte le parti in conflitto che non ha mai smesso di lavorare in un anno e mezzo di conflitto l'emergenza è l'unica organizzazione con personale internazionale che sta ancora lavorando a Khartoum e questo credo che dia un senso profondo a quello che è il nostro lavoro perché portare cure, trattare le persone con dignità dimostrargli davvero che ci consideriamo uguali in dignità e diritti come recita la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo poi alla fine ci permette di essere veramente a fianco alle persone di non farle sentire sole e di poterle poi aiutare anche ad avere una speranza per una pace una pace che manca, una pace per cui speriamo il mondo, i governanti quelli che poi possono schiacciare i bottoni si risvegliano da questo sonno della ragione che sta creando una quantità di morti e di devastazione e ci sta portando verso un baratro da cui difficilmente poi sarà possibile tornare indietro noi però continuiamo a crederci che sia possibile e lo facciamo in tanti modi anche con iniziative come queste che vedono la presenza di velisti, di naviganti importanti di campioni, campionesse olimpioniche e questo vuol dire che davvero i valori dell'inclusività, della pace, del rispetto dei diritti questi sono valori universali e come tale devono essere condivisi, rispettati e soprattutto praticati ed è per questo che poi negli anni abbiamo ampliato le attività e lavorando anche in Italia non tanto distante da qui a Marghera per esempio c'è uno dei nostri ambulatori che sono nati non con l'obiettivo di sostituirci ad un sistema sanitario nazionale che per noi è fondamentale deve rimanere il pilastro del nostro stato sociale ma l'abbiamo creato per aiutare chi da questo sistema veniva tenuto fuori a superare queste barriere e lo stiamo facendo ormai dal 2006 e tantissimi stranamente forse tanti non lo sanno tanti dei nostri pazienti sono addirittura italiani che per tanti motivi restano esclusi da un diritto fondamentale garantito dal nostro articolo 32 della costituzione che è il diritto alle cure alle cure per rimanere vivi ed è per questo che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo deciso di intraprendere anche un'ultima strada la novità per emergency che è stata quella della ricerca e soccorso nel Mediterraneo con una nave da live support di cui si parlerà dopo per un motivo molto semplice perché per noi salvare vite umane è un imperativo etico prima ancora che giuridico e quindi un Mediterraneo che è il nostro mare che è stato nei secoli un mare di incontro tra i popoli e che purtroppo negli ultimi vent'anni direi invece si è trasformato in un in un cimitero in un cimitero liquido abbiamo sentito il dovere di metterci la faccia e di provare a dare il nostro contributo e il nostro messaggio in quest'anno e mezzo abbiamo salvato 2.221 persone e i numeri per noi sono importanti perché stiamo parlando di persone come come noi quindi di vite umane e di questo oggi vi vi racconteremo quindi io ringrazio barcolana per averci accolto in questa in questa edizione e so che vedo esatto che è arrivato anche il presidente mitia giallo che invito a salire e per il quale abbiamo anche un regalino perché insomma noi ci teniamo ad avere nuovi compagni di viaggio e quindi grazie mille mitia grazie a tutti al varcolano grazie 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 alla presidente grazie a tutti voi grazie all'equipaggio che domani sarà in barca che è una parte di un equipaggio più ampio che ha voluto fortemente la presenza di emergenzi qui in barcolana dopo 19 anni 19 anni fa nel 2005 su questo palco c'era gino strada michelangelo pistoletto a parlare di guerre dei danni che la guerra produce delle ferite delle ferite fisiche e delle simboliche che la guerra genera dovunque nel mondo sono passati 19 anni e la situazione nel mondo è peggiorata e peggiorata in questi 19 anni un ruolo fondamentale ha salvato davvero 13 milioni di di vite in teatri di guerra e in luoghi di marginalità e di povertà non sono aumentati solo gli scenari di guerra ma sono aumentate anche le disuguaglianze sociali e credo che la nostra costituzione è stato citato prima l'articolo 32 lo dico sempre ai miei studenti è stata scritta pensate in un momento in cui l'italia era in in macerie non si riusciva quasi ad andare da milano a roma eppure è una costituzione che ha tanta speranza è basata sulla solidarietà e sulla scommessa che ciascuno può migliorare deve avere la possibilità di migliorare ecco parlavi del mediterraneo rossella michelangelo pistoletto che era qua 19 anni fa nel 2015 ha disegnato il poster della barcolana ed era uno specchio il la terra e il mare era un grande arcobaleno un mare che ha segnato per tanti secoli un dialogo un scambio culturale la capacità di un mare appunto di trasmettere dei valori io credo da uomo di mare qua mi spoglio della della maglia diciamo del presidente della barcolana e vesto lacerata di chi va per mare qua ci sono davvero mi fa piacere salutarli dei rappresentanti di primissimo livello della vela mondiale che che ci hanno onorato della loro presenza io credo che per chi va per mare ci sia una legge che non è una legge una norma giuridica ma è davvero scolpita nel nostro dna ed è quella della solidarietà occorre sempre quando c'è una persona in difficoltà spendersi per salvarla abbiamo ascolteremo oggi dalle esperienze di chi ha rinunciato una regata per salvare un proprio compagno e io credo che sia importante allo stesso modo cercare di garantire a tutti il diritto anzitutto alla vita e quindi ringrazio emergency ringrazio questo progetto delle vele per emergency che ritorna in barcolana e vi auguro davvero una buona barcolana grazie io penso che possiamo lasciare buongiorno a tutte e tutti io sono analisa camilli sono una giornalista e chiedo ai naviganti marinai all'equipaggio della barca di emergency di salire benvenuti benvenuti allora stamattina chiederemo appunto a questo equipaggio speciale di raccontarci perché perché è qui eh Trieste appunto eh è alla vigilia no di questa regata importantissima storica la più eh la più antica la più numerosa direi del del mondo mi dicevano prima già milleottocento eh imbarcazioni sono sono iscritte e quest'anno appunto come veniva detto ci sarà una barca l'ancilla domini eh che avrà appunto le insegne di emergency avere le insegne di emergency lo diceva Rossella Miccio significa portare un messaggio umanitario forte in un momento in cui eh la guerra ci è entrata in casa in tanti modi no abbiamo sono stati anni in cui abbiamo sentito così vicina la guerra con la guerra in Ucraina ma poi appunto il conflitto in Medio Oriente che si è riacceso nell'ultimo anno e poi conflitti appunto che tendiamo a dimenticare ma che emergency ci ricorda esistono e fanno mietono vittime ma poi soprattutto producono profughi sfollati come veniva detto il conflitto in Sudan il conflitto nello Yemen il conflitto diciamo a bassa intensità dell'Afghanistan che abbiamo che abbiamo dimenticato da quando abbiamo portato con i ponti aerei nel duemilaventuno migliaia di persone dopo la presa di Kabul da parte dei Taliban abbiamo dimenticato quel paese abbiamo una memoria davvero molto corta e per questo anche ringraziamo emergency che ci ricorda che le persone che spesso appunto attraversano questo mare i numeri dell'UNHCR sono allarmanti ieri gli ultimi numeri dell'alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite parlano di cento 22 milioni di persone che eh quest'anno sono state costrette da guerre catastrofi naturali crisi climatica a lasciare le loro le loro case di queste persone una percentuale molto piccola la vediamo appunto eh nelle rotte eh che arrivano verso l'Europa una di queste rotte la più pericolosa del mondo e attraversa proprio il nostro mare ed è importante appunto oggi da Trieste questa città che ha nel suo DNA proprio eh lo sguardo sul mondo eh che è affacciata su un mare che ci parla appunto di eh di connessioni di legami ehm guardare anche a quello appunto che che succede nella rotta del del Mediterraneo centrale ma subito eh chiederei appunto a Carlo Maisano di raccontarci eh perché Emergency è presente nel Mediterraneo centrale appunto ce ne parlava Rossella Miccio Emergency ha operazioni eh in tutto il mondo operazioni ospedali in Italia anche no da Castelvolturno a Rosarno a Marghera ma poi in Afghanistan in Uganda in Sudan ma considera anche il mar Mediterraneo uno spazio umanitario quindi uno spazio in cui c'è la probabilità di morire molto alta eh ci dicono appunto le statistiche purtroppo che la rotta del Mediterraneo centrale è la rotta più pericolosa del mondo muore una persona ogni sei di quelle che prova eh ad attraversarla ed Emergency anche per questo dal 2022 è presente con una nave che si chiama Live Support ha compiuto 24 operazioni di soccorso vorrei chiedere a Carlo Maisano di raccontarci che cos'è la Live Support e perché nell'idea io so di Gino Strada fin dal principio c'era la fortissima esigenza di essere anche in mare di essere anche nel mar Mediterraneo. Eh buongiorno piacere Carlo Maisano come hai spiegato ma la posizione eh naturale di Emergency è essere in mezzo al mare eh questo è qualcosa che per chi fa parte di Emergency per chi ha lavorato con Gino è un pensiero naturale questo questa definizione di spazio umanitario è proprio il motivo per cui un'organizzazione umanitaria che ha sempre avuto cura dei pazienti delle persone in stato di necessità non poteva mancare nel Mediterraneo centrale e quindi eh nel 2021 abbiamo cominciato a eh la ricerca di una nave che fosse adatta alla ricerca e soccorso nel mar Mediterraneo centrale eh mi ricordo bene il 23 dicembre del 2021 ho ricevuto questa scheda tecnica che parlava di quella che non si chiamava in quel momento Live Support e subito a gennaio sono partito per la Norvegia per andare a vederla visitarla testarla successivamente nel mese di febbraio era una nave in quel momento diciamo quello che si chiama lei app quindi diciamo un messa da parte dall'armatore ma era una nave che eh fin dal primo momento sposava perfettamente l'organizzazione che abbiamo nei nostri ospedali sicuramente lavorare all'estero eh nelle missioni di Emergency sono stato diversi anni soprattutto anche con Gino eh mi ha aiutato a vedere e capire che quella nave era un un possibile progetto di Emergency quindi c'era un'area all'aperto dove vengono eh prima subito al al primo accesso a bordo al primo imbarco accolte le persone e dove si può fare un primo triage questo è assolutamente necessario nel momento in cui si accolgono centinaia decine o appunto centinaia di persone tutte nello stesso momento tutte in stato di necessità tutti vulnerabili dopodiché c'è un'area di ricovero un ponte inferiore un ponte inferiore dove è stato allestito l'ambulatorio di Emergency dove in quel momento si può dare la giusta attenzione a quelle persone che hanno necessità specifiche ne incontriamo tante ne abbiamo incontrate tantissime in questi 2.221 eh pazienti in qualche modo eh che abbiamo recuperato e l'ultima missione ad esempio è stata molto impegnativa abbiamo avuto 5 soccorsi di base le le missioni sono state 24 i soccorsi sono stati molto di più eh e da lì in poi eh nel momento in cui abbiamo cominciato a vedere che quella che non era live support poteva essere eh la nostra nave abbiamo cominciato a progettarla abbiamo iniziato tutto quello che si è sempre fatto dentro Emergency quindi una coprogettazione tra eh tutti gli uffici coinvolti che sono quelli più operativi nel campo del nel campo umanitario nei spazi umanitari dove lavoriamo la parte medica la parte mediazione culturale la parte logistica proprio per incastrare tutte quelle attività che devono essere eh perfette devono essere un orologio che non si ferma un secondo perché gestire una massa di persone che arriva in stato di necessità ehm è un flusso e questo flusso tu devi in qualche modo governarlo eh e meglio lo governi e meglio queste persone riusciranno ad essere eh curate nella maniera corretta. La nave è arrivata a Genova abbiamo fatto i lavori nel duemilaventuno e la prima missione è partita il tredici dicembre del duemilaventuno e da lì fortunatamente non ci siamo mai fermati abbiamo sempre avuto persone che eh volevano venire a lavorare a bordo con noi o che ci seguivano e ci accompagnavano o ci accoglievano nei porti dove siamo dove siamo arrivati sbarcando eh i naufraghi recuperati nelle ventiquattro missioni. Grazie Carlo eh Ambrogio Beccaria marinaio di grandissima esperienza uno dei più forti della sua generazione mi hanno detto di dire prima di di non è la prima volta che vesti la maglia di emergency per te eh sei sei salito a bordo della life support e prima di farti una domanda farei vedere proprio il video della missione a cui hai partecipato a bordo della life support. Grazie a tutti. Ecco, moltissimi operatori e operatrici anche dell'umanitario che partecipano a questo tipo di missioni rimangono di solito impressionate per la forza, per l'intensità di partecipare a operazioni di questo tipo in cui a volte si ha proprio l'impressione di fare la differenza nel portare appunto soccorso e quindi impedire che le persone muoiano, si ha proprio l'impressione che la propria presenza possa impedire la morte di qualcuno, è un'esperienza veramente molto forte. Allora ti volevo chiedere, Ambrogio, appunto tu sei un marinaio che ha fatto imprese incredibili, questa missione a cui hai partecipato, cosa ti ha lasciato, che impatto ha avuto su di te e raccontaci un po' qual è la delicatezza, la difficoltà anche di fare questo tipo di interventi in mare. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito a Emergency per aver creato questa bellissima opportunità, qualcuno prima ha detto che era un onore averci qua, è veramente il contrario per me, poter essere qua insieme a Emergency è qualcosa di gigante. Questa missione, beh allora sì, effettivamente ci sono un sacco di emozioni contrastanti per me riguardo questa missione che ho svolto ad agosto, non c'era Carlo a bordo, c'era un'altra capomissione, quindi non ci siamo conosciuti in realtà. E' qualcosa di immenso visto dall'interno, perché visto da fuori uno pensa che, non so come dire, ma sembra più semplice visto da fuori, invece da dentro è una macchina veramente importante. Intanto la nave sono 55 metri, una vera e propria nave che non so quante migliaia di tonnellate faccia, ma insomma è molto molto diverso da quello a cui sono abituato io. L'equipaggio è veramente qualcosa di straordinario perché sono 30 persone, 10, una decina sono l'equipaggio più marittimo di professionisti che sono diciamo un po' più fissi, ma più legati al mondo marittimo. E il resto sono tutti invece, appunto sempre professionisti, ma legati al mondo del search and rescue e io facevo parte di quella parte dell'equipaggio lì, quindi vuol dire andare sul gommone, effettivamente è un ruolo molto pratico. Io facevo parte dell'equipaggio del gommone e quando ci hanno dato la posizione di delle barche in difficoltà, siamo andati effettivamente a cercare queste barche e a portare i naufraghi a bordo. Ed è un po' ironico, ad esempio, quello che succede tra l'equipaggio della life support all'inizio e i naufraghi. Praticamente nel momento della partenza, mi sembra che da Siracusa, l'equipaggio è molto eccitato, perché appunto si parte, sai che andrà a salvare delle persone, quindi comunque c'è un momento di adrenalina molto forte, ci sono questi allenamenti che io ho trovato estenuanti. Poi era un momento in cui c'erano 45 gradi all'ombra al ponte della nave, l'ho detto, non so se ce la faccio io. Era veramente una cosa durissima, perché avevano dei protocolli super rigidi, anche perché ovviamente io ero nuovo, quindi cercano di dare poco margine all'errore. E quindi la cosa un po' ironica che cercavo di raccontare è che appunto noi partiamo super adrenalinci, super eccitati, sai che andrà a salvare delle persone, qualcosa di enorme, nonostante la maggior parte di loro siano abituati che proprio loro lavoro a salvare persone. E poi arriva il momento del salvataggio, quindi incontri queste persone, nel nostro caso la maggior parte erano siriani, e loro in quel momento lì sono terrorizzati, perché non sanno chi sei, comunque arrivano da un momento, il secondo salvataggio, erano persone che erano in mare da tre giorni, e quindi iniziano appunto, insomma, a non stare affatto bene, quindi quel momento lì loro sono terrorizzati. Nel momento in cui vengono salvati, piano piano i ruoli si scambiano, nel senso che loro iniziano a capire che comunque più in un modo o nell'altro ce l'hanno fatta, nel senso che arriveranno in Europa, e invece l'equipaggio della nave inizia a capire che sì, l'abbiamo salvati, ma che adesso inizia tutto un altro calvario per loro, fino al momento dello sbarco, in cui questa cosa a me mi ha scioccato, loro scendono che sono perfetti, ed è una cosa che a volte in realtà la propaganda quasi ha usato contro, no? Però loro si tengono, cioè appunto scendono che sono perfetti, sono rasati, puliti, profumati, non sembrano assolutamente dei naufraghi, perché appunto loro scendono invece con tutta la speranza e l'adrenalina di essersi salvati, essere arrivati in questo posto che per loro è un po' un sogno, effettivamente, perché come dici, sanno benissimo che uno su sei muore, non è che non lo sanno, che è una cosa che a volte ci si chiede, ma perché scappano per arrivare in Italia, che poi vabbè l'Italia, voglio dire, no? A volte noi non ci rendiamo conto effettivamente a volte dell'agio che possiamo avere e loro invece lo sanno benissimo che è una delle rotte più pergolose, ma nonostante tutto sono disposti comunque a partire e questo ci fa capire tante cose, no? Da dove partono e un'altra cosa che mi aveva sicuramente impressionato è l'età media dei naufraghi, che nonostante siano tutti giovanissimi, perché mediamente erano vent'anni, credo, 60 ragazzi, e sembravano adulti, sembravano adulti nonostante appunto avessero vent'anni, perché appunto comunque l'infanzia, insomma tutta quella parte lì che noi abbiamo potuto vivere, loro ce l'hanno avuta molto meno e niente, insomma, quindi mi ha lasciato tantissime cose, molte delle quali credo che le tirerò fuori piano piano, non credo che sarà l'ultimo, cioè comunque spero di tornarci, perché sì, comunque insomma una missione è un po' poco, e spero di tornarci e spero che la Life of Sport possa continuare a fare tanti di altri questi salvataggi, perché per me, insomma, aver fatto parte di quell'equipaggio è stata qualcosa che mi mancava nella mia vita da marinaio e che sentivo di dover colmare in un certo senso, perché comunque sono nato nel Mediterraneo, oggi il Mediterraneo non è più il teatro delle mie regate, perché la maggior parte le faccio in oceano e ci tenevo moltissimo a ricucire un po' il rapporto con questo mare che in realtà sento, diciamo, solo per cronaca nera, no? E quindi il progetto di Emergency è necessario, cioè questa barca qua, come tante altre ONG, per fortuna ci sono loro, perché senza di loro non avrebbero neanche la testimonianza di quello che succede, no? Quindi non è solo salvare vittime, ma anche avere la possibilità di esserci, e sapere quello che succede è una parte fondamentale, insomma, per vivere in un mondo, si spera, più giusto, ecco. Grazie Ambrogio Beccaria. Ricordiamo che dal 2013, l'anno del tragico naufragio, proprio a poche miglia da Lampedusa, in cui morirono 368 persone che erano quasi arrivate, a Lampedusa da allora, all'epoca appunto, le istituzioni europee, no? Dissero mai più, non vedremo mai più naufragi di questo genere, sono morte da allora 30.000 persone. Oggi abbiamo appunto ricordato il 3 ottobre quel naufragio, e proprio Giovanni Soldini non ha bisogno di presentazioni, ma proprio a lui vorrei chiedere di raccontarci perché in mare è così semplice capire che cosa si deve fare. Cioè in mare siamo tutti naviganti o naufraghi, e anche i naviganti e i marinai con un'enorme esperienza, come lui sono stati naufraghi. A proposito di questo, anche in questo caso, chiederei di vedere un video e poi di parlarne insieme a Giovanni. Riproviamo. Isabel che ha chiamato i soccorsi, e io sto dirigendomi lì, e siamo proprio davanti a sta cavolo di depressione. Porca miseria. E lei e Samuè sono andati molto a sud e erano veramente posizionati male. Io sono stato bello a nord di Stigione, ho perso 100 miglia, me ne sono fottuto, però era una buona posizione, ero bello tranquillo. Adesso il problema è trovarla. Perché non è mica uno scherzo, un cacchio, trovare una barca ribaltata in mezzo al mare. Tra una decina di ore, dovremmo essere nel centro della depressione, quindi invece in strada. Dovremmo anche essere abbastanza vicini alla zona dove ci dovrebbe essere Isabel. Speriamo, guarda, che Dio me la mangi buona. L'ho beccata! L'ho beccata! Speriamo, guarda, che Dio me la mangi buona. Credo che fosse il 1996, lei era Isabella Autissier. Raccontaci appunto che cosa significa, tu sei stato tu stesso, hai naufragato tu stesso, ma in questo caso sei nella veste di Salvatore. Raccontaci un po' che cosa significa essere protagonisti nella doppia veste appunto di un naufragio. Beh, sicuramente significa direi le prime ore super stress, nel senso, noi eravamo comunque in Pacifico del Sud, Isabel era a 60 Sud, a 3.000 km dalla terra più vicina, e quindi in qualche modo io ero terrorizzato di passargli di fianco e non vederla. Il punto dell'EPIRB è un punto che non è un punto preciso, perché è uno strumento che parla con un satellite solo, e quindi la zona di ricerca era grande dieci miglia per dieci miglia. Insomma, avevo veramente il perrore. Penso che non sarei, non so, non voglio neanche immaginare uno scenario diverso da quello che poi è stato. E appena l'ho vista è proprio stato fantastico, una liberazione. E poi una gioia, perché poi Isabel è una grandissima navigatrice, che io conoscevo anche già prima, e abbiamo passato, mi sembra, 12 o 13 giorni insieme. Sono stati dei giorni fantastici, ma soprattutto dal punto di vista umano, perché chiaramente un'esperienza così, cioè, come dire, ti fa essere un po' più riflessivo e profondo. E quindi lei aveva proprio bisogno di parlare anche delle cose più intime. Ed è stato stupendo passare questi giorni insieme e poi arrivare a punta del resto. Io sì, sono naufragato anch'io, due volte. Per due volte sono stato salvato da due navi. La prima volta era, mi sembra, il 92 o il 91 addirittura, perché io ho una certa età. E già da giovane incominciavo a fare le mie peripezie. Mi sono perso la chiglia in Nord Atlantico, con una barca di 50 piedi, eravamo in tre. Siamo stati salvati da un portacontainer tedesco, tendenzialmente, con la bandiera panamense, ma in realtà c'erano a bordo tutti i tedeschi, che ci hanno portato a Filadelfia. È andato tutto bene alla fine, a parte, insomma, la brutta avventura, perché siamo naufragati di notte con un mare molto grosso e tutto. E quindi poi dopo ci hanno trovato, ma solo due giorni dopo. Insomma, la cosa bella è che poi siamo arrivati a Filadelfia e ci siamo ritrovati una persona del consolato francese, perché gli altri due erano francesi e, insomma, siamo scesi senza problemi e tutto. La seconda volta, molti anni dopo, nel 2005, portacontainer, cioè anzi era una petroliera, che arrivava diretta dal Golfo e andava negli Stati Uniti. Mi sono capottato, questa volta, appena sotto l'equatore con un primarano e eravamo a mille miglia da costa, insomma, è impossibile recuperare la barca. Alla fine, dopo una lunga trattativa con l'assicurazione, abbiamo dovuto abbandonarla. La petroliera ci ha portato a Houston. Petroliera, anche lei panamense. In realtà l'equipaggio per la maggior parte russo, era il resto filippino, il comandante in gambissima, il primo macchinista anche. Cosa è successo? Che a Houston questa petroliera era talmente grossa che non poteva entrare in porto. Doveva stare, pescava troppo, quindi stava a 80 miglia da costa all'Ancola. A Houston, chiaramente, davanti c'è il Golfo del Messico che, come dire, ha dei fondali relativamente bassi. Il problema è stato che lì venivano tutte queste piccole petroliere a svuotarla e nessuno ci voleva portare a terra. Per cui noi siamo stati 12 giorni all'Ancola davanti a Houston senza la possibilità di scendere. Fino a che il comandante un bel giorno mi ha detto guarda che noi tra due giorni ripartiamo per il Golfo. e quindi, cioè, te devi organizzare. Fai quello che vuoi, ma ti devi organizzare. E noi le avevamo provate tutte. Ero con Vittorio Malingri. E alla fine, come sempre, accade, no? Perché poi il mondo è veramente assurdo. Cioè, siamo scesi perché abbiamo dovuto affittare un elicottero. Allora, se tu hai 3.000 dollari da spendere, perché per fortuna negli Stati Uniti gli elicotteri costano poco, allora sì. Noi avevamo tutti i passaporti con il visto indefinito per gli Stati Uniti e per fortuna eravamo scesi quella volta con i documenti, perché la volta prima invece i documenti non ce li avevamo. Quindi immaginati... E per fortuna comunque appunto avevamo dei passaporti di un paese occidentale con il visto, con tutti i diritti, con tutte le garanzie, eccetera, 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 eccetera. Perché stiamo andando verso un mondo dove per un comandante russo, che per fare il comandante di una pietroliera, una delle pietroliere più grandi del mondo, prende 4.500 dollari al mese, per cui dal punto di vista, come dire, non è proprio uno comodo. Risca di non essere imbarcato, perché lui ha un contratto per otto mesi, se fa il bravo lo richiamano dopo avergli fatto fare un mese a casa. Se non fa il bravo non lo richiamano, perché ce n'è tanti di comandanti disponibili, per cui nessuna garanzia. Insomma, è un mondo brutto, un mondo che sta perdendo i valori fondamentali alla fine, no? Perché è così. Alla fine tu, naufrago, sei un problema, un grosso problema per l'armatore, perché dovunque poi arrivi nel paese dove arrivi sono problemi, eccetera, eccetera. Quindi io non voglio pensare se fossimo stati due ragazzi magari di colore, magari su una barca di legno, in mezzo al mare, senza un epierb, senza un passaporto. insomma, è evidente che sono pensieri che ti vengono in mente quando ti succede, alla fine molto più quando ti succede di essere salvato, perché quando salvi è solo un'esperienza di, alla fine, di gioia, no? Di grande, diciamo, di grande, sei di gioia alla fine. Grazie, Giovanni. Caterina Banti, fresca di Vittoria Olimpica, sei appunto una campionessa olimpica e farai parte anche tu della squadra di Emergency in questa barcolana. Che cosa ti ha avvicinato a Emergency? Prima mi parlavi un po', no? Dei valori olimpici che tu ritrovi nella missione umanitaria di Emergency. Innanzitutto, Annalisa, grazie, grazie Emergency di avermi invitata, grazie a voi per essere qui ed è un onore essere qui sul palco con dei navigatori e delle grandissime persone come Ambrogio e Giovanni che, insomma, le cui storie e le cui parole sono assolutamente molto toccanti, ecco. io dal mio piccolo noi navighiamo intorno alle boi vicino terra quindi non ho mai provato queste sensazioni e in realtà sono molto vicina come persona ai valori di Emergency per quello che ho studiato, per la mia storia, le mie esperienze personali ma dall'altro lato come ho sempre detto credo fortemente nei valori dello sport e nei valori olimpici e come atleta olimpica e atleta olimpionica che ha vinto un'olimpiade e che ha rappresentato l'Italia ha portato la maglia azzurra alle olimpiadi credo fortemente che ho il dovere morale specialmente in un mondo come questo in cui viviamo oggi di rappresentare ogni giorno i valori dell'olimpismo che sono tra i più importanti rispetto la solidarietà la pace la tolleranza l'inclusività sono valori universali la bellezza dello sport più in generale è che è universale va al di là di qualsiasi tipo di colore della pelle religione fazione politica e cultura e questi sono gli stessi valori per i quali Emergency combatte ogni anno e combatte da anni quindi ecco la testimonianza che vorrei portare insomma oggi come rappresentante di questi valori per quello che posso e penso che se tutti quanti riuscissimo nel nostro piccolo nella vita di tutti i giorni a fare piccoli gesti forse riusciamo a a rendere il mondo un po' migliore grazie Caterina per questa testimonianza io volevo tornare da Emaisano perché le condizioni in cui operate in questo momento nel Mediterraneo centrale non sono le migliori diciamo così per usare un eufemismo è dal 2017 che le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale hanno dovuto diciamo affrontare diverse ostilità anche da parte dei governi nonostante le leggi internazionali prescrivano che i governi hanno l'obbligo di facilitare il soccorso in mare e ogni imbarcazione che va per mare ha l'obbligo di soccorrere un'altra imbarcazione che è in difficoltà allora volevo chiedere a Maesano quali sono le difficoltà innanzitutto che affronta Emergency si affronta Live Support nel portare appunto questo aiuto fondamentale questo soccorso fondamentale oggi sono solo le organizzazioni non governative di fatto che compiono soccorsi in mare mentre in altri tempi appunto c'era un dispositivo governativo e europeo appunto in cui le organizzazioni umanitarie erano di supporto a partire appunto dal 2013 ma questo oggi non c'è più e siete soli di fatto a compiere soccorsi sì negli anni è cambiato molto il contesto sicuramente le navi delle ONG tra cui Emergency che è operativa da pochi anni hanno visto cambiare il contesto hanno visto restringere la possibilità soltanto a pochi per poter lavorare per il soccorso in mare in verità la difficoltà la difficoltà è più che altro riuscire sempre a ricercare come fare il soccorso in mare come non creare quel vuoto sul Mediterraneo centrale perché il problema principale non è banalmente dell'ONG o della nave che devi armare stava spiegando prima Ambrogio con 30 persone rifornirla di gasolio e tutto il problema che poi devi affrontare realmente se fai un lavoro umanitario è di essere presente e se non ti viene permesso di essere presente allora devi capire in qualche modo come riuscire a riempire quello spazio è diventato sempre più difficile sicuramente noi abbiamo incontrato fin dall'inizio con il decreto piante dosi un lavoro che ci ha necessariamente dovuto ci ha messo davanti la situazione quindi non poter fare più di un soccorso o comunque non essere facilitato nel farlo poiché ti viene assegnato un porto distante un porto molto lontano dall'area di soccorso ogni volta ti crea sempre una forse l'ha provato anche Ambrogio uno stupore nel fatto che dici ok sono contento di aver salvato delle persone ma so che dovrò andare magari al porto di Ravenna di Livorno di Trieste o chissà dove ci manderanno questa volta e so che per almeno 7-8 giorni sarò distante da questo spazio da questa zona di mare dove sicuramente ci saranno dei naufragi ecco questo è una delle conseguenze una delle conseguenze e bisogna affrontarla sempre tutti i giorni lo si fa essendo sempre pronti a ripartire essendo sempre preparati ad andare in mare lo si fa con un lavoro di gruppo perché poi nel momento in cui ci sono detenzioni eventuali che possono essere riportate sulla tua nave sulla società armatoriale bisogna essere subito pronti a rispondere perché bisogna ritornare in mare il prima possibile la difficoltà principale sicuramente in questo ultimo periodo è questa in passato ormai forse ce ne sono state talmente tante di cose avvenute che per quanto siano avvenute pochi anni fa ci sono stati tanti tentativi adesso il momento storico è questo dove ci si alterna eventualmente si sa che altre ONG saranno presenti ma si sa anche che ad esempio d'estate o nei periodi che non sono per forza quegli estivi ci potranno essere persone in difficoltà al mese di marzo ad esempio dalle statistiche è quello con la più alta mortalità e non è un mese estivo però potete immaginare le condizioni in mare a marzo significa che chi parte magari non è quella persona che sa che ce la farà con quella percentuale ma sa che la situazione è molto peggio e quindi bisogna sempre essere presenti sempre essere uniti per riuscire a navigare andare a soccorrere le persone che partiranno inevitabilmente dal Nord Africa questo è la realtà delle cose grazie una cosa che da giornalisti facciamo un po' fatica a spiegare appunto al grande pubblico è la pericolosità dell'ambiente marino il fatto che in mare si possa morire così velocemente nel giro di pochi minuti e il fatto che il Mediterraneo tra tanti mari sia particolarmente pericoloso allora vorrei chiedere all'ambrogio di aiutarci a capire perché il Mediterraneo è un mare così pericoloso e perché appunto in mare bisogna intervenire così rapidamente a volte anche i soccorsi possono essere un pericolo per chi è in mare beh sì effettivamente a volte non si capisce quanto comunque il mare effettivamente non si è perché uno nell'immaginario collettivo il mare è la spiaggia cioè uno quando pensa al mare pensa più alla spiaggia no quello non è il mare quella è la spiaggia e quindi in realtà il mare comunque non è un posto in cui tu puoi vivere facilmente no hai bisogno di tante cose prima fra tutto ci vuole un mezzo affidabile no stupidamente bisogna partire da una barca e quindi io banalmente è la prima cosa su cui si lavora no nel mio lavoro quando pensiamo a una rigata prima cosa da pensare è la barca attrezzarla renderla sicura poi noi facciamo regata quindi abbiamo tutto il pensiero di comandare più veloce però l'inizio è ok quanti siamo le dotazioni di sicurezza la zattera l'acqua il cibo se finiamo l'acqua cosa succede quindi il primo porto vicino in caso di problema o ad esempio quando sei durante la traversata atlantica quando sei in mezzo beh magari cioè in fondo la tua testa non ti comporti come quando sei a 50 miglia da costa no perché comunque in caso di bisogno è tutto molto diverso quindi da questo punto di vista il mare poi ha anche così è anche un posto pericoloso sfortunatamente diciamo la cosa sbagliata in sé è che ovviamente dipende anche dal passaporto perché ovviamente se io parto mi ricordo di questa cosa che è successa qualche anno fa in Mediterraneo vicino a Malta che era stato dato l'allarme che c'erano due naufraghi americani e questa cosa aveva un po' scioccato il mondo del sercereschio perché mai si era parato di nazionalità quando ci sono naufraghi cioè ci sono due naufraghi punto e invece avevano dato questa informazione in più dicendo che erano americani perché comunque in realtà il mare dove emergency ad esempio effettua i salvataggi è uno dei mari più trafficati al mondo cioè lì c'è una quantità di cargo incredibile che passano e quindi il fatto di dire che sono americani è poter dire questi bisogna tirarli su so come dire quindi ovviamente in realtà il passaporto è una delle cose che rende il mare più sicuro e poi come dicevo sì le barche quindi ovviamente per tutte le persone che partono dal nord Africa che partono con queste barche molto approssimative ovviamente è forse la cosa che le rende più più pericolosa la tratta è proprio la barca in sé sono barche super straffollate in cui spesso finisce l'acqua perché finisce la benzina e quindi si ritrovano a galleggiare in mezzo al mare per tanti giorni i giorni in cui ho partecipato alle missioni erano dei giorni di caldo ma incredibile veramente era una roba devastante stare quattro ore sotto il sole per me era molto vicino alla tortura come pensiero ma bevevo quattro litri d'acqua avevo un letto potevo mangiare quanto volevo quando abbiamo trovato queste persone che stavano tre giorni sotto il sole io non mi posso immaginare cosa volesse dire quindi da questo punto di vista il mare può essere un luogo un luogo estremo ovviamente dipende dipende da dove si parte e molto anche dal passaporto che hai grazie ambrogio io vorrei chiedere a Giovanni di aiutarci a capire come è una questione che mi sono posta tante volte questo l'Italia è un paese che si affaccia sul mare che è circondato dal mare è un paese costiero ma appunto è come se avesse sviluppato un po' una diffidenza verso quello che avviene dal mare quindi anche per esempio le migrazioni che arrivano via mare sono più malviste di quelle che arrivano via terra sono forse più spettacolarizzate tanto che appunto in questi anni c'è stato un processo quasi di criminalizzazione di chi soccorre è qualcosa che io non mi spiego tanto appunto in un popolo di naviganti come il nostro e vorrei un po' chiederti di aiutarci a capire secondo te che cosa è successo e invece si parlava prima della legge del mare che è una legge anche che ha poi è scritta diciamo in tante convenzioni internazionali leggi internazionali ma è un po' parte della nostra identità nazionale è il caso di dirlo della nostra cultura del senso comune come mai si è persa questa ma io non credo che si sia persa in realtà e che credo che chiunque naviga chiunque abbia a che fare col mare che sia un pescatore che sia uno della guardia costiera che sia uno della marina che sia uno che va in barcavela in realtà di sta cosa si vergogna perché è inaccettabile ma perché è una cosa dentro di noi nel senso la gente in mare si salva da prima dell'epoca dei romani cioè voglio dire i romani non è che se quando riuscivano a come dire massacrare la nave dei nemici poi li tiravano su dall'acqua non è che i libri lasciavano morire per cui in Africa addirittura ho letto un libro un po' della storia della pirateria eccetera in cui spessissimo quando facevano dei prigionieri c'era una sorta di rispetto anche perché sapevi che poi quello lì ti avrebbe catturato lui magari tra cinque anni e quindi sì lo trattavi da schiavo ma insomma ma insomma occhio e per cui questa roba qua è dentro nel DNA di chiunque affronta il mare e di chiunque in mare ci lavora in mare ci va io credo veramente che purtroppo siamo arrivati a cercare di far risolvere dei problemi della terra al mare questa è l'operazione che è stata fatta cioè non si vuole tanto dire però questo è cioè non sono in grado di gestire un problema enorme che ho e su questo non c'è dubbio e quindi ci penserà la natura ci penserà il mare ma facendo questo in qualche modo faccio violenza a una parte profondissima della mia cultura e quindi non funziona grazie sono d'accordo sul fatto che si sia spostato in mare un problema invece che andrebbe risolto appunto solo una volta a terra Caterina appunto dicevamo che Emergency ha questo progetto di life support nel mar Mediterraneo ma come veniva detto all'inizio Emergency è presente in moltissimi paesi del mondo con operazioni specifiche professionali interventi medici ma non solo umanitari e quindi volevo chiedere appunto a Caterina Abanti di dirci in che cosa si sente vicina appunto ai progetti di Emergency nel mondo e che cosa la colpisce di questa loro storia anche di umanitari di professionisti dell'aiuto umanitario innanzitutto processi migratori ci sono in mare ma sappiamo anche Trieste è un paese di confine ci sono tante brutte storie anche qua che accadono ogni giorno e al confine anche tra 20 miglia la Francia o queste persone partono da sotto al deserto e prima di arrivare al mare c'è tutto un altro lungo viaggio che devono affrontare in cui rischiano di morire quindi sono tante storie o che quando cercano di scappare da guerra Emergency è anche in luoghi di guerra ci ricordava prima la Presidentessa 56 giusto i conflitti che ci sono nel mondo e di cui nessuno parla o anche banalmente offrire supporto sanitario in Italia stessa dove ci vanno anche tanti italiani quindi Emergency aiuta chi ha bisogno in qualsiasi tipo di bisogno e questo sia in Italia e anche in giro per il mondo e questo sicuramente è una cosa bellissima come ci ricordava anche prima Ambrogio e Carlo per portare aiuto e soccorso non ci si può assolutamente improvvisare nei diversi ambiti in cui si impegna Emergency e ha sicuramente bisogno di professionisti come ci ricordava anche Ambrogio la prima cosa per andare per male è l'imbarcazione su cui stai quindi serve una imbarcazione adatta a quello che devi fare o come immagino se devono stare negli ospedali in Sudan nel deserto hanno bisogno di la struttura giusta le persone giuste i medici gli infermieri eccetera insomma quindi siamo qui anche per una raccolta fondi per promuovere le cose che fa e i progetti di Emergency nel mondo e quindi sicuramente servono tanti fondi per avere tutti quei professionisti necessari per portare aiuto a chi ne ha bisogno in Italia ma anche nel mondo ma anche dai medici da chi guida l'ambulanza da chi scrive l'articolo di giornale da chi porta cibo da chi fa il pieno della benzina la life support da chi scrive progetti quindi sicuramente sono tanti i protagonisti che girano intorno a un unico evento è un unico progetto e niente quindi portiamo questa nostra testimonianza e grazie grazie Caterina Banti ringraziamo in effetti Emergency per il lavoro che fa di supporto il lavoro materiale ma anche per il lavoro di enorme testimonianza da giornalista lo posso dire sono i nostri occhi spesso in posti del mondo in cui è complicato arrivare anche per i giornalisti quindi ringraziamo questo equipaggio speciale di Emergency che domani appunto parteciperà alla Barcolana di Trieste la Barcolana 56 Caterina Banti Giovanni Soldini Ambrogio Beccaria e Carlo Maisano e chiedo a Rossella Miccio di raggiungerci per un saluto finale ringraziamo anche il Teatro Miela per averci ospitato stamattina grazie grazie anche Annalisa Camilli che che è una nostra compagna di viaggio ormai da tanto tempo io vorrei ringraziare anche Alberto Riva e Alberto Bona che domani saranno con noi a bordo il Teatro vi diamo appuntamento alla Barcolana sapete che Emergency è anche parte del charity program della Barcolana quindi ci possono essere equipaggi testimonial di Emergency si possono fare donazioni attraverso la rete del dono e invitiamo davvero tanti a fare questo passaparola perché come diceva Caterina prima c'è bisogno dell'aiuto di tutti per poterlo fare noi domani saremo in regata con una bellissima Ancilla Domini che è tutta che è tutta Emergency molto diversa da quella del 2005 che avevamo un mini transat c'è la più piccola barca correggetemi se sbaglio che può fare la traversata dell'Atlantico e ci sono anche in sala alcuni dell'equipaggio di allora Raul Pantaleo e Alberto Sonio da qualche parte che saranno con noi anche oggi quindi diciamo questa continuità di rapporto con il mare con la Barcolana noi speriamo che sia davvero il veicolo per poter da cittadini consapevoli fare il nostro pezzettino per vivere in un mondo un po' più giusto come si diceva prima per chi vuole addirittura allo stand in riva e qui fuori si può salire sulla live support perché ci sono i nostri visori e lo consiglio a tutti perché credo che dobbiamo recuperare la capacità di immedesimarci davvero negli altri uscire un po' dalla nostra zona di comfort noi lo facciamo abbiamo il privilegio perché credo che sia ancora un privilegio poterlo fare tutti i giorni aiutando qualcuno ma credo che sia un'esperienza importante per chiunque quindi benvenuti alla Barcolana benvenuti ad una vela per emergency grazie a tutti e tutti ai nostri volontari che sono stati fantastici e sono ancora saranno impegnati in questi due giorni buona Barcolana 56 a tutte e tutti grazie grazie